Buongiorno a tutti ragazzi e forza Juventus. Io oggi voglio ricordarvi un appuntamento in cui cercheremo di parlare un po' più nel dettaglio di calcio e soprattutto in questa pausa nazionale cercheremo di fare un punto della situazione su quello che è la tematica nazionale, perché si parla anche di un cambio modulo, l'Italia che potrebbe andare a giocare con la difesa 3, alcuni giocatori della Juventus convocati dall'Italia potrebbero ritrovarsi catapultati anche in nazionale all'interno di 1-3 erotti, non credo 3-5-2 però vedremo poi nel caso e quindi vi invito a seguire la puntata di oggi di BopoTV Challenge, mi viene sempre da dire Challenge è più bello, BopoTV Channel dove andremo a estrapolare l'argomento e andremo ad osservarlo a più punti di vista cercando di parlare di Locatelli, di Cambiaso e di Chiesa che sono i tre nazionali italiani convocati da parte appunto di Spalletti per quanto riguarda la Juventus, però dato che questo è un video interamente dedicato ai calciatori, noi non solo di Cambiaso e Locatelli e Chiesa dobbiamo andare a parlare, dobbiamo cercare di ampliare il raggio, perché qui c'è un discorso da fare, che non è un discorso inedito, è un discorso che ho già affrontato parzialmente in alcuni video, è un discorso che tutte le settimane affrontiamo all'interno delle pagelle con le valutazioni dei calciatori, è un discorso fondamentale di cui parlare giunti a questo punto, perché? Perché ieri ho parlato Scanavino, vi ho portato qui su YouTube il video in cui commento le parole di Scanavino, ieri vi ho portato il video in cui vi elenco quello che dovrebbe essere il piano dei dirigenti della Juventus per quanto riguarda Allegri da qui a fine stagione e da fine stagione per iniziare la prossima, trovate tutti i video qui sul canale, trovate i riferimenti qui sopra nelle schede e sapete bene che cosa pensa in questo momento la Juventus, c'è da conquistare la Champions, c'è da raggiungere la finale Coppa Italia e come sempre aggiungo io c'è da provare a vincerla e c'è ovviamente da concludere questa stagione, questo è il quarto anno di fila che arrivati a questo punto non si fa altro che contare i giorni che mancano al termine della stagione, i tre anni di Allegri più l'anno di Pirlo. L'anno di Pirlo è stato particolare perché fino all'ultimo respiro la Juventus non aveva ancora completato quelli che potevano essere gli obiettivi stagionali, ecco quest'anno immagino che sarà la stessa roba, perché se avessimo pensato due mesi fa prima della partita con l'Empoli di essere in questa pausa nazionale al 21 di marzo a contare le partite che mancano e sperare che determinati incastri, determinati scontri diretti possano andare in una certa direzione, che la Juve possa riuscire a salvaguardare questi 7, 8, 9, 10, 11, 12 punti, quelli che saranno in base a quante squadre parteciperanno effettivamente alla Champions di vantaggio nei confronti di formazioni che erano distanti se non distantissime da noi, beh io avrei preso il telefono, avrei chiamato, avrei detto ragazzi qui stiamo veramente andando fuori di testa, ma secondo voi può succedere una roba del genere, invece è successa. Bisogna separare le responsabilità, io credo che quelle di Allegri siano già state discusse fino alla nausea, io rimango della lettura che avevo fatto anche prima di Juventus-Inter, nemmeno Inter-Juventus, Juventus-Inter, la partita d'andata che si è conclusa per 1-1 con gol di Vlauic e Lautaro, e avevo invitato proprio qui sul canale Davon e il critico calcistico per cercare di fare un'analisi di quello che era il momento della Juventus, con dei dati, quindi stavamo ancora parlando dell'andata, la Juventus era nel periodo del filotto positivo, si vinceva e le cose andavano tutte bene. Eppure lì eravamo arrivati alla conclusione che la Juventus stava overperformando e che la tendenza futura della Juve era destinata a calare, esattamente come era accaduto l'anno prima dopo la sfida del Maradona. Ricorderete il 5-1, la sconfitta, bla 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 bla. In quel momento lì la Juventus inizia un percorso più negativo rispetto a prima e la giustificazione che si era dato era legato appunto alla penalizzazione, all'extracampo e a tutte le problematiche. Ieri vi ho portato una statistica, a febbraio dopo la penalizzazione la Juventus fa 4 partite e 4 vittorie in Serie A. Quest'anno senza penalizzazione in febbraio la Juventus non riesce assolutamente a replicare quel bottino, anzi 4 punti in 4 partite contro i 12 dell'anno scorso, il che significa che non era solo la penalizzazione ma si parla anche ovviamente di tematiche legate al campo. E se già all'epoca vi dicevo ragazzi la Juventus dal punto di vista tattico è una squadra povera, rubo una lettura di Luca del critico calcistico che già all'epoca disse e che ho visto ha ribadito anche nel suo contenuto di Juventus Genoa, la Juventus fa poche cose, pochissime ma cerca di farle in maniera buona. Ne fa poche, non è che la Juventus ha mille armi, ha delle armi banali, elementari, però cerca di aggrapparsi a queste. Poi certo non può durare, la tendenza non può essere quella, però qual è la grande differenza in un contesto tattico comunque spoglio anche prima e che rimane spoglio se non ancora più nudo in questo momento? Che c'era un certo tipo di approccio, c'era assolutamente un mordente differente. La partita di Juventus-Verona che finisce per 1-0 il 97esimo gol di Cambiaso nella quale comunque annullano 2-3 gol alla Juventus. Ditemi che non avevate visto uno spirito e degli occhi diversi da parte dei giocatori della Juventus. Banalmente Monza-Juve, partita brutta se non bruttissima, col pareggio di Carboni all'89esimo, una roba del genere, è comunque gatti che vuole andare a fare e riesce a portare a casa la vittoria col 2-1 in extremis. Ragazzi, quelle letture lì sono cattiverie differenti. Ora guardate la faccia dei giocatori della Juventus, guardate gli occhi dei calciatori della Juventus, guardate nel video che vi ho pubblicato qui sul canale l'altro giorno, quando editavo il video in treno e ritorno da casa, guardavo le facce dei giocatori della Juventus e dicevo mamma mia, sono morti, sono svuotati. E allora Scanavino ieri ha confermato che Allegri anche in questa pausa rimarrà allenatore della Juventus e che ci sono degli obiettivi da portare a termine. Ragazzi, ma un po' di amor proprio. Ripeto, prima, quando non vincevamo, il contesto tattico, quindi le responsabilità di Allegri erano le stesse, identiche. Adesso si può aggiungere della responsabilità in più dal punto di vista mediatico, comunicativo, di alcune scelte discutibili, ma sicuramente l'impianto della Juventus era identico. Quindi questi ultimi due mesi di campionato devono per forza di cose partire nella testa dei calciatori. Questa inerzia, questo cambiamento deve partire nella testa dei calciatori, perché ovviamente in campo ci vanno i calciatori. E ribadisco, Allegri aveva lo stesso tipo di approccio anche prima. Non è che prima Allegri era un genio della tattica. Credo che siano state due, massimo tre le partite che mi hanno fatto veramente dire al termine della gara, Allegri questa l'ho preparata bene. Mi viene in mente una su tutte. Juventus-Lazio 3-1. Anche l'altro giorno il Genua ci lascia la palla e noi quando abbiamo la palla non abbiamo idea che cosa fare. E qui per forza di cose devo prendermela con i giocatori e devo prendermela con l'allenatore, perché se i giocatori sono spaesati e allora li passa dall'allenatore. Vi faccio un altro esempio. Napoli-Juventus. Napoli-Juventus, ragazzi, è stata una gara in cui al termine vi dico, oggi Allegri ha poche responsabilità, anzi la Juventus ha creato delle occasioni. Vlaovic sbaglia quattro gol, la Juventus non avrebbe meritato di perderla. Questa partita la perde per via dei tanti errori, dei tanti sprechi sottoporta. Capite la differenza delle valutazioni, capite? Quando bisogna andare in una direzione e quando in un'altra. Quindi Allegri non è che ha cambiato la Juventus quest'anno. Ci aveva provato all'inizio, dopo le quattro perere di Sassuolo, che si è visto, si è visto, si torna indietro. Però i calciatori non scendano più in campo con quella voglia, con quella attenzione, con quella concentrazione, con la tranquillità di prima. Abbiamo costruito una stagione su un equilibrio fatto con la carta pesta, sulla tranquillità e la sicurezza fatte con la carta pesta. E qui abbiamo costruito un castello, sì, un enorme castello, ma di carte. Non abbiamo messo il cemento, non abbiamo messo le pietre, i mattoni, non abbiamo messo niente di questa roba qui. Niente. Abbiamo fatto un castello di carte. Quindi, da questo punto di vista, io faccio una richiesta ai calciatori. Dato che Scanavino ieri ha confermato Allegri e ha detto che Allegri resterà fino al termine della stagione, la stagione dura due mesi, due mesi, sono una decina di partite. Ragazzi, fuori le palle. Fuori le palle perché a me non me ne frega assolutamente niente che quest'estate ci sarà l'Europeo e tanti andranno all'Europeo. Non me ne frega una fava e non deve fregare nemmeno a voi perché siete stipendiati e abbondantemente dalla Juventus. Perché anche ieri è stato ribadito che l'obiettivo della Juventus è essere una squadra, da parte di Allegri ad Athletic, una squadra competitiva e sostenibile. Oggi non siamo né competitivi né sostenibili. Competitivi no perché una stagione non finisce a febbraio, non esiste nel mondo, è sostenibile nemmeno perché sia la squadra più pagata della Serie A e ci sarà un motivo. Quindi questi ultimi due mesi in cui hanno detto che l'allenatore è quello lì per altre dieci partite e poi ne parliamo. Bene, fuori le palle perché a me non me ne frega niente dell'Europeo. Deve fregare a voi che non avete ancora mai vinto magari niente con la Juventus. Tanti giocatori della Rosa non hanno vinto niente con la Juventus. Non sto dicendo che è tutta colpa vostra. Capisco che è difficile, capisco che è un periodo impegnativo, capisco anche che possa essere stressante andare in campo e dover sempre improvvisare, però serve anche un po' di amor proprio. Serve volersi bene. Serve andare in campo e dire, oh, io sono giocatore tal dei tali, non è che sono sto schifo che vanno in giro a raccontare. Sono un giocatore che la Juventus ci può stare e ve lo dimostro, ve lo faccio vedere. Perché quando poi tra due mesi magari verrà esonerato Allegri, voi ci sarete ancora, forse, perché magari vi giocate anche la riconferma in questi due mesi, però voi ci sarete ancora. E allora l'anno prossimo che ci sarà un altro allenatore che magari non avrà l'impatto mediatico di Allegri? Dopo tocca a voi, eh? Quindi iniziatemi ad allenarvi già adesso, perché siete stati meravigliosi, bravissimi, avete fatto sicuramente di più di quello che il campo raccontava anche, spesso e volentieri, quindi siete stati veramente bravi nella prima parte di stagione, ma la stagione mica finisce a febbraio. Non finisce a febbraio, quindi gambe in spalla, forza e coraggio, perché bisogna veramente completarla da Juventus. Per voi, per noi, per tutti. Forza Juve.